Ma è un genio raga, ma chi è? Non lo so, gabbia pizza Dov'è il gonfiabile? Sì ho capito, ma io devo mettermi a gonfiare a bocca raga, cioè Fatemi capire Finchia raga, ma svengo veramente Guarda, già ho problemi solo ad aprirla In teoria dovrebbe essere corredato anche con questo cerchietto Cioè fa vedere se riesco a metterlo, non lo so Deve essere anche corredato con questa treccina La treccina di Frozen Eh, sì, in teoria sì, ce l'ho al compressore Ma non so dove cazzo è, cioè Ah No, mai mi viene un infarto, giuro A me viene un infarto qua, veramente A me sembra enorme raga, cioè Mamma che odore di plastica Ma dove cazzo è il bocchettone? Eccolo qua Minchia raga, ma ci muoio, giuro Cioè ci muo... No raga, non si gonfia, giuro Come devi schiacciare? Ma come devo schiacciarla raga? Devo premerla? Niente Schiaccia la... Eh, la base la sto schiacciando raga Ma quando soffio devo schiacciarla Ma spai, ma ce ne sono più di una Raga, ma è fo... È follia Ah, porco zio Ah, ma ce la fai È impossibile, ci muoio No, no, non riesco Non riesco, non riesco È impossibile, raga Da fare con la bocca È impossibile, giuro È impossibile Da fare con la bocca Sta cazzo di roba Chiudi l'altra valvola E l'altra è proprio... Vabbè Voglio piangere Che poi in teoria dovrebbe essere tutta fatta bella gonfia Però non so se ci arrivo a fare la gonfia così Cioè, secondo me ci muoio prima, minchia Giuro, secondo me ci muoio prima, eh Cioè Succede tutto per una ragione Qual è la ragione per cui sto montando sta stronzata? Qual è la ragione per cui la sto montando? Cioè Qual è la ragione? Ah Qualcuno mi viene a dare il cambio? Secondo voi qua è abbastanza gonfia e troppa molle Troppo molle Sì, sì, adesso devo gonfiare anche l'altra, lo so Grazie, spada Va bene, secondo voi? Troppo molle? E intanto gonfio l'altra parte, va Sei gonfiato, godo Ci siamo Questa è l'impresa più ardua di sempre, giuro Dai, raga, ma non riesco a starci sopra Devo appoggiarmi Perché scende, cioè Vabbè, oh, sono seduto, raga Più di così cosa cazzo volete? Sul trono Più di così cosa cazzo volete? Più di così cosa cazzo volete? Grazie a tutti.